Sindaco, alle nostre spalle questa bella immagine della Madonna del Monte, ecco ci siamo messi qua non a casa, la Madonna del Sacro Monte, siamo messi qua ecco non a casa. La Madonna del Sacro Monte di Novi Veglia, perché vedo che ormai l'idea che passa è quella Madonna del Sacro Monte, non esistono Madonne anonime, è Madonna del Sacro Monte di Novi Veglia come c'è la Madonna di Pompei, Madonna di Montevergine e tutte le altre Madonne. Queste sue parole ci fanno, insomma ci introducono, ci fanno capire che la Madonna è di Novi Veglia, quindi voglio dire anche le responsabilità di questo santuario e della strada che ci porta al santuario sono del comune di Novi Veglia. Ma che cosa sta succedendo? Sulla vetta del Gelbison c'è la Madonna di Novi Veglia, non lascia spazi a dubbi, il primo cittadino Adriano De Vita, l'abbiamo raggiunto questa mattina a Palazzo di Città, a preoccupare sono questi grossi massi caduti lungo la strada, che porta alla vetta del Monte Gelbison, dove da oltre 100 anni sorge il santuario Mariano. Un mese fa la prima ordinanza di chiusura da parte del comune, ieri sono stati posizionati blocchi di cemento che di fatto ne vietano la percorribilità. Non è una decisione presa dall'alto improvvisa, insomma ci sono stati dei passaggi che vi hanno portato a questa decisione? Ma assolutamente no, c'è un pericolo reale e per cui io innanzitutto come sindaco sono responsabili della sicurezza e delle incolumità soprattutto delle persone e in una fase del genere non me la sento a cuor leggero di dire che è una strada in sicurezza. Non è una strada in sicurezza e credo che tutti i lavori che possiamo fare su quella strada non determinerebbero mai la sicurezza di questa strada. Ma noi stiamo percorrendo anche un'altra strada, cioè abbiamo già provato in Giunta qualche mese fa il ripristino di un'altra strada che è in terreno battuto, che parte proprio da dove abbiamo posto la chiusura e che è una strada del 1960-65 ed è una strada che basta vederla, che è in totale sicurezza. Io mi sono sempre chiesto per quale motivo non hanno... Vediamo anche noi per cui. Non voglio dare risposte. Per quale motivo non è stato ultimato e messo in sicurezza quella strada anziché realizzare quella che purtroppo oggi teniamo. In questo modo noi con quel progetto prevede la sistemazione di quella strada ma non solo. Quindi con un unico progetto, con un unico intervento andremo a risolvere, ad avere una strada in sicurezza, risolvere il problema dell'elettrificazione, risolvere il problema della rete fognare, che sono dei problemi fondamentali ed importanti. Intanto cresce la preoccupazione tra cittadini e fedeli, poiché tra qualche giorno, il 26 maggio, è prevista proprio l'apertura annuale del santuario e per domani sera Adriano De Vita ha convocato un'assemblea popolare. L'apertura del santuario non è a rischio, perché il santuario si è sempre aperto l'ultima domenica di maggio, anche quando la strada non esisteva proprio, quindi quando si partiva a piedi da noi. Se poi vogliamo totalmente abbandonare quella che è la tradizione del culto, allora mi chiedo che culto è. La fede e tutto il resto, credo che la fede vada oltre tante cose, e riesce a superare tutte le barriere che l'uomo può porre, quindi la fede è qualcosa di superiore, di immenso e che quindi la strada non c'entra. Fedeli, insomma, attraverso una bella passeggiata. Noi ci stiamo adoperando da subito nel vedere se possiamo mettere in sicurezza la strada, se è possibile l'apertura. Noi ci stiamo già adoperando, ci sono già gli operai della comunità montana che sono sopra e che stanno facendo la verifica se a Monti ci sono dei massi da rimuovere che rappresentano un pericolo. È chiaro che se a fine settimana ci rendiamo conto che la sicurezza può essere garantita ad un certo livello, è chiaro che noi andremo a rimuovere i massi, ma se questa sicurezza non la riusciamo a garantirmi, sembra un fatto proprio dovuto, sia dal punto di vista morale che come responsabilità nel senso civico, tutelare l'incolumità innanzitutto delle persone che vanno sul santuario come atto di fede e di pellegrinaggio.